I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per omicidio stradale un ventunenne che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe investito Alfonso Campochiaro, netturbino di 62 anni. Campochiaro stava andando a lavoro in motorino verso il porto di Pozzuoli dove si sarebbe imbarcato per Procida. Dalle stime ricavate dal sistema di videosorveglianza dei carabinieri, la 500 del ragazzo sfrecciava intorno ai 100 km orari. Stava gareggiando con un coetaneo che a bordo di una Ford Fiesta lo sfidava in una corsa per le strade del centro cittadino di Pozzuoli. Poco prima dell'incidente avvenuto intorno alle 3.30 della notte i due avevano scongiurato un altro scontro con la Fiesta che ha evitato l'impatto frontale con una vettura solo all'ultimo momento. Il jeep di Napoli ha convalidato l'arresto del ventunenne e disposto la sua custodia ai domiciliari, mentre l'altro ragazzo è indagato in stato di libertà per lo stesso reato.